Storia, arte, cultura, gastronomia, tutti gli appuntamenti di Weekend da Scoprire. Venerdì 21 ottobre a Colleferro alle 17 presso la Sala Ripari ci sarà la presentazione del libro di poesie Io ti vengo incontro di Antonietta Pastorelli. A Roccasecca alle 18 nella frazione di Caprile presso la chiesa di Santa Maria delle Grazie appuntamento con Roccasecca Terra di Cammini, tutela e custodia del patrimonio artistico comunale. Sabato 22 a Monte San Giovanni Campano dalle 18 e 30 nei vicoli del Centro Storico appuntamento con l'edizione 2022 di Giramonte, vino, musica, piatti tipici e tradizione. Apriverno, sabato e domenica presso la Bazzia di Fossanova appuntamento con l'evento La Festa dell'Olio dalla terra alla mensa con mostra mercato, stand gastronomici, degustazioni, arte di strada e rievocazioni storiche. Domenica 23 a Vallepietra presso il Santuario della Santissima Trinità iniziano le celebrazioni per la chiusura del santuario. Alle 10 Santa Messa preseduta dall'abbate Padre Hugo Tagni e al termine Adorazione Eucaristica. A Terelle primo appuntamento di Aspettando la 38esima Sagra delle Castagne. Alle 10 in Piazza Biondi appuntamento con il convegno, gli antichi mestieri, stand di prodotti artigianali e tipici, intrattenimento musicale e distribuzione delle caldarroste. A Patrica dalle 15 in Piazza Emanuele II appuntamento con la 53esima Sagra Dulla Acquata Idulla Callarrosta con distribuzione delle caldarroste e intrattenimento con musica popolare. Per inviare le vostre segnalazioni scriveteci a weekendchiocciolateleuniverso.it Grazie a tutti.